Radio Streghetta, l'oroscopo Buongiorno a tutti dalla Rinascente Telle. Scopri l'oroscopo del giorno, offerto dai più grandi astrologi italiani del centro dei cartomanti europei. Il nostro centro di cartomanzia è aperto tutti i giorni dalle ore 7 di mattina alle ore 2 di notte. Ariete Incontri importanti in vista, badate bene a ciò che direte, se conoscerete qualcuno. Quella persona potrebbe darvi un'opportunità, un amore, cercherete nuovi spazi. Toro La giornata di oggi, cari amici, devo dire che per molti di voi non inizierà in maniera perfetta, ma a metà giornata una stersata di fortuna vi ridarà il sorriso, portandovi a creare anche delle belle idee che già dai prossimi giorni vedrete voi come dare forma e misura per la sua realizzazione. Gemelli Giornata di ristrettezze. Dovrete rinunciare ad alcune delle vostre cose che vi piacciono di più in funzione di un obiettivo ben più soddisfacente. Terrete duro pensando a cosa vi aspetta e se dovreste riuscire a concretizzare i vostri sforzi. In amore vi sentirete totalmente liberi di esprimere i vostri sentimenti a qualcuno. Cancro Una sorpresa vi strapperà un sorriso. Sentirvi considerati e importanti potrà esservi solo d'aiuto per rendere al massimo le vostre possibilità alle attività odierne. Fate attenzione a mantenere la concentrazione necessaria per lo svolgimento delle vostre mansioni. In amore sentirete di avere le idee chiare. Leone Piccola delusione in arrivo e vi mancherà anche l'appoggio da parte di una persona sulla quale contevate molto. Ma non demordete perché in amore andrete avanti per la vostra strada senza tentennare. Tempi di allontanamento dovrete distaccarvi da una persona a cui tenevate ma lo farete solo per il suo bene. In amore eviterete di essere consolati da una persona ambigua. Vergine L'apparenza rappresenterà un fattore determinante durante questa giornata. Molto probabilmente la realtà non coinciderà ma questo non importerà ai fini del vostro obiettivo. Otterrete una notevole soddisfazione sul lavoro. I vostri meriti verranno evidenziati da qualcuno che vi affianca giornalmente nelle vostre attività. In amore un momento no verrà amplificato dalla solitudine. Bilancia Vi sentirete stanchi e spossati e sul lavoro non mancheranno le critiche ma dovrete trovare la forza di replicarvi. In amore è arrivato il tempo di tirare le somme su una situazione in sospeso. Scorpione Dovrete darvi una mossa, non è necessariamente negativo e ve ne rendete conto se accetterete di confrontarvi con le vostre paure durante la giornata. Rimboccatevi le maniche, mettetevi al lavoro duro, i risultati arriveranno. In amore lasciate perdere i ricordi e apritevi a una nuova esperienza. Sagittario Vedrete finalmente risplendere la luce per voi e per le persone le quali volete bene. Avete attraversato non poche difficoltà cari amici, ma ora davvero tutto sta tornando a posto. Non ve ne eravate accorti? Iastri sì Capricorno Vi sentirete stanchi, la grande fiacchezza sarà mitigata dall'enorme felicità suscitata dal frutto del vostro duro lavoro. La famiglia e tra amici riceverete consensi e ammirazioni, ma non mancherà qualche critica trascurabile. In amore il feeling mentale supererà quello fisico, che per un po' sarà forzatamente assente. Acquario Vi sentirete vittime di un'ingiustizia. Qualcuno adopererà due pesi e due misure nel corso di una disputa, che vi vedrà contrapposti a una persona sconosciuta. Dovrete moderare le parole per evitare di arrivare a uno scontro con una persona cara. In amore attenzione a non apparire eccessivamente duri. Pesci Movimenterete una situazione statica, non saprete stare con le mani in mano e vi adopererete per dare l'assistenza a qualcuno che per voi conta parecchio. Riceverete elogi e attestati di stima, di seguito a una coraggiosa presa di posizione. In amore la persona del quale vi guarderà con occhi diversi.